Non so se leggi bene la data, 4 aprile 2018. Questa è Millionaire, una delle riviste più lette in Italia dagli imprenditori di successo e all'interno di questa rivista c'è la nostra azienda Build Your Brand Ok, dove naturalmente parliamo appunto di online marketing e social media marketing. Perché ti dico questo? Perché ti ho mostrato Millionaire? Perché da anni ci occupiamo di formazione in questo settore e ci occupiamo anche di gestire il marketing attraverso la big agency di aziende professionisti con successo. E quindi dopo aver maturato tante esperienze in questo campo e non essere degli sprovveduti come tantissime persone, aziende che stanno entrando in questo settore per sfruttare quello che è il trend, visto anche gli ultimi avvenimenti, abbiamo deciso appunto di creare un webinar dove vogliamo dare informazioni reali. In questo webinar ti sveleremo essenzialmente perché oggi un social media manager non può funzionare se non diventa un social media manager 2.0 che è una figura totalmente diversa, una figura che ha competenze a 360 gradi e soprattutto come potrai creare una social media marketing agency innovativa senza costi fissi attraverso il nostro modello di business che è l'unico modello oggi per poter far sopravvivere un agency ed avere risultati reali creatanti sul campo attraverso uno speciale modello che unisce il mondo del dropshipping, del private label e appunto del social media marketing diventando partner ufficiali di Bip Agency. Non voglio svelarti altro perché all'interno del webinar scoprirai tutto però quello che ti chiedo di fare adesso è iscriverti gratis a questo webinar noi ci vedremo all'interno appunto di questa masterclass ti daremo tanto tanto contenuto, tanto materiale gratuito. Qui da Mirko del Fino è tutto, ci vediamo nel webinar, ciao e a presto! Grazie a tutti!